La Roma potrebbe essere acquistata dal gruppo Friedkin. A confermare questa prospettiva è un documento prodotto da Goldman Sachs, che offre agli acquirenti internazionali l'ingresso nella società giallorossa. Si tratterebbe di un prospetto che illustra i potenziali di crescita del club e degli investimenti fatti nell'era americana. Il probabile compratore è il texano Dan Friedkin, che sembra molto interessato all'acquisto e ha inviato un gruppo nella capitale per valutare la fattibilità dell'operazione. Ora resta da vedere se James Pallotta vuole davvero cedere il club sul quale ha investito circa 400 milioni di euro. Alexis Sanchez potrebbe rientrare presto a disposizione di Mr. Conte. Questa è la notizia che porta ottimismo in casa Inter. L'attaccante cileno, operato dopo aver riportato la lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra nell'amichevole della sua nazionale contro la Colombia, potrebbe quindi tornare, come sottolineato dal responsabile del settore medico nerazzurro, Piero Volpi. Abbiamo lavorato molto bene con Alexis. L'infortunio che ha subito ha richiesto una particolare attenzione. Ha spiegato al quotidiano cileno la quarta. Il recupero però è stato molto positivo e le tappe sono state rispettate in pieno. Sulla data del rientro resta indicativamente metà gennaio, ma Alexis potrebbe tornare anche prima se tutto va bene. Dopo le feste avremo un quadro certo, ha concluso Dottor Volpi. Una vera e propria boccata d'ossigeno per i nerazzurri che nel reparto d'attacco hanno gli uomini contati. Il Benfica torna a interessarsi a Mattia Perin. Questa è la notizia riportata dal quotidiano portoghese Abola, secondo cui il club di Lisbona aveva già tentato di acquistare il portiere della Juventus quest'estate, ma i negoziati si erano interrotti a causa di problemi fisici riscontrati durante i test. Secondo la testata però, il Benfica sarebbe pronta ad iniziare una nuova trattativa per l'estremo difensore bianconero e vorrebbe portarlo tra le aquile già nella finestra di calciomercato di gennaio. Per Abola, l'accordo potrebbe prevedere 15 milioni di euro e il trasferimento di Joao Ferreira, terzino classe 2001, alla Juventus. Grazie alle sue recenti prestazioni con la Roma in nazionale, compresa la doppietta realizzata con la maglia azzurra, il cartellino del talento giallorosso Nicolò Zagnolo è aumentato. Secondo il Cies, l'Ostervatorio del Calcio, il valore del centrocampista Capitolino si aggira intorno agli 80 milioni, 78,9 per la precisione. La cifra è stata elaborata con l'algoritmo utilizzato dall'Istituto e si riferisce alla valutazione al 4 novembre. Ma visti gli ottimi risultati conseguiti negli ultimi tempi, la somma è destinata a salire.